stamattina un nuovo modo di affrontare le nostre riflessioni su quello che sta accadendo nella scuola italiana di solito scrivo dei post però qui mi sembra che il momento sia un po particolare quindi anche corretto riflettere con esprimere un pensiero in forma più compiuta di quanto può avvenire scrivendo poche righe su facebook il problema è particolare perché io non riesco a capire e quindi quando non capisco io mi rivolgo a voi della rete perché mi possiate dare delle indicazioni delle delle linee guida da seguire cioè io da una parte apri il giornale leggo quello che il governatore della regione lombardia io vivo a bergamo quindi quello leggo con particolare attenzione mi dice o dice attenzione che non solo le scuole secondarie di secondo grado ma tutti gli ordini di scuola con ogni probabilità verranno chiusi perché in lombardia i dati della pandemia stanno si sono aggravati e probabilmente andiamo tutti in zona rossa con delle restrizioni molto forti e quindi ci riprepariamo ad un lockdown ancora una volta dall'altro che non è comunque il lockdown di marzo e aprile è un lockdown comunque molto diverso rispetto a quello che abbiamo vissuto nella prima fase della pandemia soprattutto noi di bergamo poi leggo ulteriormente da ieri che il ministro azzolina afferma la didattica a distanza non va bene non non funziona e questo mi crea dei problemi immagino un docente che stamattina costretto a stare in casa e comunque a distanza si pone a fare una lezione sapendo che questa lezione non ha gli effetti sperati quindi c'è distrazione non c'è concentrazione c'è dispersione ma le cause vere quali sono sicuramente io il massimo rispetto di quello che afferma il ministro e sicuramente se il ministro afferma una cosa di questo tipo ha dei dati in mano per perché questa affermazione che si basa su dei dati veramente concreti ecco sarebbe molto importante sapere quali sono i problemi nella didattica a distanza sono problemi infrastrutturali sono problemi di mancanza di device problemi di didattici problemi di troppo tempo passato davanti al computer da parte dei ragazzi quindi la concentrazione inevitabilmente si perde modalità di fare questa didattica che trasferisce troppo la tipologia di lezione la metodologia didattica della lezione in presenza e nella modalità a distanza mentre sia le metodologie livelli di comunicazione la riprogettazione dovrebbe essere molto diversa ecco quali sono i problemi perché se uno sa i problemi cerca anche delle soluzioni io credo onestamente che molto dipenda dal fatto che i docenti che hanno fatto uno sforzo incredibile veramente per affrontare la didattica a distanza hanno dovuto reinventarsi una nuova scuola soprattutto hanno dovuto fare i conti con delle tecnologie il mondo del mondo dell'immateriale a cui loro non erano assolutamente abituati ci sono c'erano un numero altissimo di docenti che non avevano accettato la tecnologia nella didattica di tutti i giorni figuriamoci a dover gestire delle piattaforme lavori di gruppo in rete creare dei prodotti multimodiali a supporto della propria didattica insomma uno sforzo veramente indicibile da parte dei docenti e che hanno avuto delle linee guida anche su come impostare la didattica per nuclei concettuali con metodologi didattiche innovative ma di fatto di fatto come si riprogetta una la didattica in questo caso quali sono i livelli di comunicazione come ci si trasforma nel fare scuola di fronte o monitor con dei ragazzi collegati in rete che non può essere assolutamente la stessa metodologia che si usa quando si è in classe questo lo sappiamo tutti ma anche gli orari scolari scolastici quante ore effettivamente si è davanti ad un monitor quante ore i ragazzi devono stare a seguire le lezioni perché ho sentito di scuole per fortuna tra quelle che ho sentito non erano numerosissime che hanno trasferito l'orario scolastico in presenza in quella distanza il che è impensabile perché non l'attenzione ovviamente si perde dopo pochissimo quindi quali strategie sono state usate ma i docenti come fanno a saperlo ma i docenti hanno avuto tempo di riorganizzare la propria progettazione hanno avuto il tempo di formarsi da questo punto di vista presi come sono stati a imparare ad apprendere competenze digitali ad apprendere nel momento in cui sono tornati a scuola come svolgere la propria lezione in massima sicurezza affrontare una scuola una struttura scolastica completamente rivista rispetto a quello che avevano lasciato mesi prima a febbraio cioè sono tante le le problematiche io ho deciso e ho chiesto anche formatori di impara digitale di dare un minimo di supporto nel adesso faremo dei video in cui daremo degli spunti è solo degli spunti non è un corso di formazione figuriamoci degli spunti su come si progetta per nuclei per nuclei tematici ma anche la valutazione cosa valutare in effetti perché valutare le conoscenze quando si è in didattica a distanza non è assolutamente semplice allora quali tipo di valutazione mettere in atto cioè le problematiche sono tantissime però bisogna individuare le problematiche per trovare le soluzioni perché onestamente che si dica la didattica a distanza non va bene ma siamo costretti alla didattica a distanza non c'è la scelta tra la didattica a distanza e la didattica in presenza questa scelta ci viene negata come è negata a tutti i cittadini che vorrebbero svolgere una vita normale come era febbraio e non sono costretti invece a delle limitazioni fortissime non è solo la scuola ma è tutta la società non è vero che è tutto aperto no io perlomeno che ho condotto sempre una vita di un certo tipo tra aerei viaggi sonveni seminari incontri di persone una vita sociale anche nella mia città tutto questo mi è profondamente limitato quindi è chiaro che siamo tutti in una situazione particolare dove non c'è la possibilità di scelta vorrei tornare a febbraio ma purtroppo così non è e fino alla fine di questo anno scolastico quantomeno io penso che la situazione rimarrà quella che ci troviamo di fronte se non peggiorerà quindi cosa fare quali sono i problemi che dobbiamo affrontare che soluzioni possiamo dare su questo è giusto confrontarci è giusto riflettere e trovare anche noi che siamo la base delle soluzioni pratiche e vere noi di impara digitale faremo daremo delle proposte faremo delle proposte anche per dibattiti su questi temi però noi siamo una goccia nel mare ma è una riflessione che io vorrei si portasse avanti perché comunque a distanza purtroppo ancora rimarremo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti